Quale paese è responsabile della mia sicurezza sociale? Stai pensando di trasferirti in un altro paese dell'Unione Europea? Se sì, sai che per te e per i tuoi familiari è prevista la tutela dei diritti in materia di sicurezza sociale? Per esempio, Anne è una cittadina britannica che finora aveva sempre vissuto e lavorato nel Regno Unito. I suoi diritti di sicurezza sociale erano quindi coperti dalle normative di questo paese. Poi ha conosciuto Matteo di Roma. Anne ha deciso di trasferirsi in Italia dove ha trovato un lavoro. Ora Anne è coperta dalla sicurezza sociale secondo la normativa italiana. La sicurezza sociale comprende tra l'altro l'assistenza sanitaria, l'assegno di maternità, gli assegni familiari, l'indennità di disoccupazione e i diritti pensionistici. In Italia, riceverai esattamente lo stesso trattamento riservato ai cittadini italiani in tutti questi ambiti della sicurezza sociale. Ricorda, solo un paese per volta è responsabile della tua sicurezza sociale e di norma è quello in cui lavori. Esistono però eccezioni a questa regola, per esempio se il tuo datore di lavoro ti invia in un altro paese per un incarico a breve termine o se lavori contemporaneamente in due paesi. Il datore di lavoro italiano di Anne decide di inviarla in Ungheria per un incarico a breve termine. Se tale periodo è inferiore a due anni e se lei continua a lavorare per lo stesso datore di lavoro, Anne continuerà ad essere coperta in Italia, anche se di fatto lavora in Ungheria. Questo per evitare cambiamenti di normative se viene inviato all'estero dal suo datore di lavoro per brevi periodi. Anne ci ha preso gusto a muoversi in Europa. Aveva sempre desiderato vivere in Svezia e grazie all'opportunità di lavoro ha deciso di trasferirsi lì. Ora lavora per un'impresa danese. Due giorni alla settimana lavora in una filiale della ditta in Svezia, dove risiede. Ma tre giorni alla settimana lavora nella sede centrale dell'impresa in Danimarca. Quindi lavora contemporaneamente in due paesi. Quale paese è responsabile della sua sicurezza sociale? Dato che Anne svolge in una parte sostanziale della sua attività, oltre il 25% in Svezia, dove inoltre abita, la Svezia è responsabile della sua sicurezza sociale. Altrimenti sarebbe stata assicurata nel paese in cui ha sede il suo datore di lavoro, la Danimarca. Il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale ti consente di spostarti in Europa senza perdere i tuoi diritti. Coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. L'Europa si muove con te. L'Europa si muove con te. L'Europa si muove con te. Grazie a tutti